Giacchierini Il gol dell'anno lo segna Emanuele Ciacchierini Il gol per il perro, salta il ruota, ruota, ruota Il gol per il taco per Novi, si è stato il taco Novi, tiro GOOOOOOOL! e poi Rinaldo! E' un gol per Cristiano Ronaldo! Sensational! Il migliorno in la storia della Champions League! E' un gol! E' un gol! Golè! E' un gol! 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 Inizia il trazzo di prima, un circuidato sul rimasto e che gol! Gol! C'è BGV! E ora è un sacco! Ma è un sacco? C'è un sacco! Un sacco! Un sacco! Un sacco! Niccolas, un sacco! Un sacco! Un sacco! 3-1! Un sacco! È un sacco! È un sacco! Un sacco! Un sacco! E ora si sta pure! Un sacco! Oooooooooooooooh! Non capolino vuoi ceci! Perleviare! La voce, tecniche! E un sacco! E un braconco! Eriksson Eriksson Il Vali sta vanni Mamamia Nooo 1'5 GOOOOOOOL GOOOOOOOL Eriksson GOOOOOOOL GOL! 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 22.5, l'actuale balla... Alessia! Gian Mario, Martinovole, hallo swing, 20 hits! What a terrific effort from Martinovole! Sigginson! And Sigginson with a great goal! What in he goes! He will go down as an own goal, but Sigginson deserves all the credit in the world! Dan Rojo, chips on the cross! Leaves it for Chelsea! Oh, that is absolutely gorgeous! What a great goal! What a great goal! Torreda throws the ball! Super goal by Lucas Torreda! Mamma mia! The goal of the opponent, he hits the goal... Ah, good, 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 good! Goal, 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 goal! For Halzenberg, there is Brumab... Brumab! And Charlie Daniels! That's fabulous! And Charlie Daniels! That's fabulous! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Poutinho... Poutinho cuts... Poutinho cuts... Poutinho goes to the individual... Poutinho... Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti